Dal Vangelo secondo Matteo Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Il risorto si è manifestato ai discepoli, riuniti nel Cenacolo, si è manifestato ai due di Emmaus. I discepoli devono tornare in Galilea, se vogliono fare l'esperienza piena, completa, coinvolgente del risorto. Hanno già avuto le manifestazioni che lui è vivo, lo sanno, che lui è in cielo, ma ancora non si sono decisi a dargli pienamente la loro adesione. Non si sono ancora lasciati totalmente coinvolgere. Perché credere che lui è vivo, che è risorto, ti cambia la vita. Chi sono questi discepoli? Sono undici, non sono dodici. Quando, durante la vita pubblica, che si è svolta praticamente tutta in Galilea, questi discepoli seguivano Gesù, erano dodici. È un gruppo ferito, perché uno è venuto meno. Se n'è andato. Ha fatto altre scelte, ha ritenuto che Gesù fosse una persona pericolosa per la religione e per la vita del suo popolo. E che cosa ha fatto? Lo ha consegnato all'autorità costituita. Non l'ha tradito. Noi ripetiamo spesso questo verbo, ma mai nei Vangeli si dice che Giuda ha tradito il Signore. Lo ha consegnato. Semplicemente ha pensato che doveva essere fermato questo Gesù perché era un sovversivo, era pericoloso per il suo popolo. Giuda non si è lasciato liberare dalle sue concezioni religiose, dalle concezioni che aveva della società. Giuda ha continuato a seguire quelle che erano le sue convinzioni e ha ritenuto Gesù una persona pericolosa. Sono rimasti inundici, quindi, e ci chiediamo chi sono. Non sono persone sicure di sé, forse li immaginiamo tutti gioiosi perché sanno che Gesù è risorto. No, sono gente scossa, sconvolta. E come mai? Hanno fatto l'esperienza del risorto e se lui aveva ragione cambia tutto nella loro vita. Devono rivedere tutti i loro sogni, tutte le loro scelte. Adesso capiscono che Gesù parlava sul serio quando diceva che la vita doveva essere donata. Quando diceva se chico di grano non muore, non porta frutto. E se prima miravano al successo, a diventare grandi, adesso hanno capito che devono diventare piccoli. Se pensavano che dovevano essere persone con grandi ricchezze, adesso lo sanno che devono farsi poveri, che devono donare tutto per la vita dei fratelli. Se speravano di avere molti servi, ora devono capire che sono loro che devono divenire schiavi di tutti. Ecco, quel Gesù stava demolendo tutte le loro speranze che erano state alimentate dall'interpretazione che davano alle promesse dei profeti, che realmente, difatti, avevano detto che l'israelita fedele al Signore avrebbe avuto un grande successo, sarebbe stato ricco, grande, forte, potente. Ecco, è un gruppo umiliato dalla propria debolezza, dalla fatica che fa ad accettare l'uomo nuovo. Siamo noi quegli undici. È la nostra Chiesa debole, di poca fede, fin dall'inizio. Una Chiesa che un po' crede e un po' dubita. E se non prendiamo coscienza di questa situazione interiore, della difficoltà che si fa ad accogliere la proposta di vita che ci fa Gesù, vuol dire che non abbiamo capito. Per superare questo momento difficile nella vita spirituale dei Suoi discepoli, Gesù li manda in Galilea, là dove è avvenuta tutta la vita pubblica. Quindi devono ripercorrere quel viaggio che loro hanno fatto per tre anni al seguito di Gesù. E l'invito è a salire sul monte, non su un monte, no? Il monte non è un monte materiale. Il monte, nell'immagine biblica, è il luogo, il momento, la situazione in cui si lasciano i pensieri degli uomini, i ragionamenti degli uomini per interiorizzare il pensiero, i giudizi di Dio. Se non si sale sul monte, se si rimane nella pianura, si può essere ammiratori di Gesù, considerarlo un personaggio straordinario che ha fatto proposte di vita sublimi, che è morto sulla croce. Ma poi ci fermiamo lì. Questo è ciò che hanno verificato tutti. Ma per lasciarsi coinvolgere dall'amore verso di Lui, in un amore sponsale, quando si condivide la vita, è necessario tornare in Galilea, ripercorrere tutta quella vita pubblica e fermarsi su quel monte, assimilare il messaggio che è stato annunciato sul monte. Che cos'è questo monte? Certamente non è il monte Tabor, no, proprio non c'entra, è il monte biblico. L'Evangelista Matteo ne cita vari di questi monti. Dobbiamo farne passare qualcuno, perché questi monti a cui accenerò sono il monte, dove si ragiona in un modo diverso da quello che si ritiene giusto in pianura. Il primo monte è quello delle beatitudini. Se noi rimaniamo in mezzo agli uomini, assimiliamo il messaggio degli uomini, il nostro cuore è appesantito, è ripiegato sulle realtà di questo mondo e arriviamo ad idolatrarle. Se noi rimaniamo in pianura, non possiamo lasciarci coinvolgere dalla proposta di Cristo. E' necessario salire sul monte, ascoltare le sue proposte. A questo punto però credo che tutti noi ci troviamo di fronte a un'obiezione che abbiamo sentito rivolgerci forse, questa. Io sono disposto a dare la mia adesione alle proposte di vita che fa Gesù, ma prima mi devi dimostrare che è il figlio di Dio, che fa miracoli. Mi devi provare, dare la prova inoppugnabile, razionale e allora io gli do la mia adesione. Si sbaglia il punto di partenza. Facciamo l'esempio degli innamorati. Una ragazza non può chiedere al suo fidanzato prima mi dimostri che sei la persona eccezionale, che sei l'unico, che sei proprio la persona della mia vita. Prima me lo dimostri, poi comincio a frequentarti. Non è così. Bisogna rovesciare il punto di partenza. Prima vivi al mio fianco, cominci a gustare ciò che io gusto, oppure se non ti piace allora ti allontani. cominci ad apprezzare i valori in cui io credo, poi dopo che sei vissuta al mio fianco per un po' di tempo e ti senti pienamente coinvolta, allora mi dai la tua adesione. Ma non cominci, non puoi cominciare da una dimostrazione razionale. Prima vivi la vita insieme con Gesù dopo capisci. Se noi non saliamo su quel monte e non cominciamo a vivere le beatitudini accanto a Lui, insieme con Lui, non ci innamoreremo mai di Gesù. Ecco la necessità di salire su quel monte. Vivi il mio amore gratuito e ti renderai conto che la persona è bella quando vive come io l'ho vissuta la vita. Tu capirai che è vera questa vita, che ho ragione. Ecco il primo monte quindi. Prima vivi la beatitudine di chi dona tutti i beni, la beatitudine di chi è innamorato della giustizia. Ecco, sono le beatitudini che io ho vissuto in pienezza. Ti renderai conto allora che vale la pena unire la tua vita alla mia. Il secondo monte, quello della trasfigurazione, o meglio, della metamorfosi, devi salire su quel monte perché è lì che tu vedi la verità sull'uomo, non le apparenze. lo schiavo, colui che non è apprezzato dagli uomini, sul monte lo vedi trasfigurato, vedi la sua metamorfosi. Era l'uomo vero. Il grembiule, quello del servo che lava i piedi, quando tu lo vedi sul monte, è il paludamento regale. Ecco l'esperienza che dobbiamo fare se vogliamo davvero lasciarci coinvolgere dalle proposte di Gesù. Vedere questa metamorfosi sembrava il bruco, era una stupenda farfalla, sembrava una persona umiliata, sconfitta, era il vero vincitore. Il terzo monte è quello dove c'è la distribuzione del pane. Il monte su cui il maestro ti fa comprendere il senso e il disegno di Dio sui beni di questo mondo. Se noi non saliamo sul monte, rimaniamo in pianura, noi cominciamo ad arraffarci tutti i beni che ci capitano a disposizione e idolatriamo i beni di questo mondo. non li impieghiamo per lo scopo al quale Dio li destina, li consideriamo nostri, ci sentiamo proprietari, non lo siamo. Siamo degli amministratori e dobbiamo amministrare tutti i beni condividendoli con i fratelli. se noi non saliamo su questo monte, noi non ci lasciamo coinvolgere dalla proposta di vita di Gesù. Chi non si rapporta in modo corretto con le ricchezze, con i bedini del mondo e vive per accumularli, li gestisce da proprietario, non vedrà mai la bellezza della vita che Gesù ha vissuto. I discepoli sul monte lo vedono e lo adorano. Adorarlo significa che riconoscono in lui la presenza di Dio, riconoscono che la sua proposta di uomo è quella che viene da Dio. e viene notato che anche sul monte alcuni ancora dubitano. L'esperienza del dubbio è la nostra, non del dubbio che esista Dio, anche quello magari, ma il dubbio è se seguo Cristo indovino la vita o la spreco. Non avrò rimpianti di una vita che avrei potuto godermi senza pensare ad altro che a me stesso. a volte ci pare che sia vero, a volte no. Ecco la difficoltà che hanno avuto i discepoli e che abbiamo anche noi a dare la piena adesione a Cristo. E questa è l'immagine della nostra chiesa di oggi. Persone che hanno paura di salire sul monte, fanno qualcosa, magari qualche devozione, ma non salgono sul monte per assimilare in pienezza il pensiero di Cristo. Ed ecco adesso l'invito che Gesù fa a questi discepoli. Sono deboli ma il risorto promette di essere sempre al loro fianco nello svolgimento della missione che affida loro. Gesù si avvicinò e disse loro A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Credo che forse noi ci saremmo arrabbiati di fronte ai dubbi e alle incertezze di questi discepoli che non si decidono a dare la piena adesione a Cristo. Gesù non si preoccupa dei loro dubbi si avvicina li capisce questi discepoli vedono sconvolti i loro sogni le loro attese le loro speranze hanno visto andare all'aria i loro criteri di giudizio la loro scala di valori tutto capovolto i grandi veri sono quelli piccoli i servi sono i padroni ecco a queste persone sconvolte Gesù si avvicina e dice mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra di che potere si tratta tenti a non equivocare non è la capacità di dominare su tutti oppure di poter fare quello che lui vuole no Gesù ha un solo potere ricevuto dal padre quello di donare vita di donare gioia di rendere felici gli uomini e questo potere sarà quello che comunicherà ai suoi discepoli l'unico potere che lui comunicherà Gesù ha ottenuto dal padre questo spirito che deve comunicare ai suoi discepoli e ha ricevuto questo potere proprio perché ha rinunciato a tutti quelli che sono i poteri di questo mondo quei poteri che Satana gli aveva messo sotto gli occhi e che Gesù ha rifiutato c'è un'unica autorità che lui comunica ai discepoli l'unica volta in cui si parla di potere donato ai discepoli è quello di scacciare gli spiriti immondi cioè le forze del male e di guarire ogni sorta di malattie tutto ciò che è segno di morte deve essere vinto ora questo compito è affidato a questi discepoli ed ecco che incombenze dà a questi undici e sono le stesse incombenze che lui affida a noi vengono espresse con quattro verbi il primo andate mettetevi in movimento dovete non aspettare che gli uomini vengano a voi ma siete voi quando avete preso coscienza della ricchezza che vi è stata donata che è questa nuova vita che è questa parola di vita che ho portato nel mondo non dovete tenerla per voi dovete andare nel mondo quindi mettervi in movimento per portarla a tutti lo ricordiamo gli israeliti non erano missionari no aspettavano che fossero gli altri popoli a venire a Gerusalemme a portare le loro ricchezze no qui il movimento è l'opposto non sono gli altri popoli che devono venire non li dovete aspettare siete voi adesso che dovete portare questo dono nel mondo poi il secondo verbo fate discepoli tutte le genti il discepolo è colui che vive accanto al maestro perché deve apprendere i suoi i suoi pensieri i suoi giudizi il suo modo di vivere è per questo che Gesù quando si è scelto i discepoli dice l'evangelista Marco ne ha scelti i dodici perché stessero con lui e poi per inviarli a predicare ma la prima ragione per cui lui chiama dei discepoli è perché stiano con lui perché imparino a stare al suo fianco e ad assimilare i suoi valori e la sua vita Gesù non è una dottrina è una persona concreta da conoscere da ascoltare a cui parlare una persona da amare e l'obiettivo sarà poi di quello di essere continuatori della sua persona e questi discepoli sono inviati a tutte le genti israele era stato chiamato la luce del mondo quindi già nell'antico testamento israele avrebbe dovuto tenere ben presente che doveva portare la luce nel mondo era a servizio degli altri popoli non doveva dominare sugli altri popoli non era un privilegiato perché tutti lo ammirassero o gli stessero sottomessi no israele era stato chiamato essere il servo della vita degli altri popoli anche abramo doveva essere una benedizione per tutte le genti ecco i discepoli devono fare discepole tutte le genti e devono battezzare cioè devono immergere tutte le persone nella vita di Dio cioè far sì che tutte le persone accolgano questa vita che è l'amore accolgano lo spirito che Cristo ha portato nel mondo e poi dovranno il quarto verbo insegnare a osservare tutto ciò che Gesù ha comandato e ha comandato una cosa sola amare non manda a insegnare una dottrina ma a insegnare una nuova vita e la insegneranno come ha fatto Gesù presentando se stesso con questa vita nuova incarnata lo stesso dovranno fare i discepoli nel mondo e conclude il brano evangelico che è anche la conclusione di tutto il Vangelo secondo Matteo io sono con voi tutti i giorni sino al compimento dell'era presente questo Dio con noi le divinità degli altri popoli erano divinità che si trovavano in certi luoghi e i loro devoti dovevano andarle a trovare a visitarle offrire sacrifici per ricevere i loro favori il Dio di Israele non è come questi dei come queste divinità pagane il Dio di Israele è un Dio che sta con il suo popolo che accompagna il suo popolo io sarò con voi è ripetuto tante volte nella Bibbia quando Dio chiama Mosè a liberare il suo popolo e lui si sente inadeguato si schermisce il Signore lo rassicura io sarò con te Giosuè che deve introdurre Israele nella terra promessa ha paura perché l'impresa è superiore alle sue forze e Dio lo incoraggia io sarò con te Geremia anche è giovane balbetta ha paura a fare il profeta Dio gli dice io sarò con te il Dio di Israele è un Dio che sta con l'uomo e qui Gesù riprende la stessa promessa non abbiate paura io sono con voi del resto questo del Dio che è con noi è il nome che Dio si è dato quando si è rivelato a Mosè quando ha pronunciato il proprio nome ha detto Eie Asher che tradotto non significa io sono colui che sono ma io ci sono io sono sempre al tuo fianco questo è il nome del Dio di Israele colui che sta sempre al tuo fianco questo nome ricorre più di 6.000 volte nella Bibbia nell'Antico Testamento ecco è il nome che Dio si è dato quando tu vuoi sapere chi sono io e vuoi chiamarmi io sono colui che è sempre al tuo fianco questo è il mio nome del resto lo sappiamo cosa accadeva nel deserto quando il popolo che camminava verso la terra promessa Dio era con il suo popolo aveva la sua tenda dove c'era l'arca dell'alleanza e quest'arca aveva delle stange perché doveva essere trasportata era il segno della presenza di Dio che accompagnava il suo popolo è interessante che quando il popolo abbandona il suo Dio si dona l'idolatria Dio non lo abbandona però dice la mia tenda adesso fuori dall'accampamento perché devono capire che sono rimasto offeso però continua ad accompagnare il suo popolo commovente anche quando Israele è deportato in Egitto Ezechiele vede i cherubini che sollevano l'arca dell'alleanza la vede andare fino sulla cima del monte degli olivi e poi la vede partire questa arca dell'alleanza per andare verso oriente là dove ci sono gli israeliti perché il Dio di Israele sta con il suo popolo ed è durante l'esilio babilonese che è accaduto un evento triste che ha segnato per secoli la spiritualità di questo popolo di Israele le guide spirituali hanno cominciato a dimenticare questa immagine del Dio amore predicato dai profeti il Dio vicino il Dio che è accanto sempre al suo popolo e l'hanno sostituita con la figura del legislatore severo esigente distante dal suo popolo difatti dicevano che Dio era al di sopra del settimo cielo erano sette i cieli e fra un cielo e l'altro c'erano 500 anni di cammino quindi bisognava percorrere 3500 anni di cammino per arrivare da lui troppo distante era inaccessibile è lì che si è cominciato a non pronunciare più il nome del Signore il tetragramma quelle quattro lettere che noi oggi per rispetto a Israele non pronunciamo in ebraico questo nome ma Dio lo aveva insegnato questo nome proprio perché fosse pronunciato è stato sostituito con Adonai Signore e di non pronunciare più questo nome è il segno della distanza che si era creata fra Dio e il suo popolo ecco quando Dio è venuto a farsi vedere nel mondo e ha preso le nostre sembianze si è fatto uno di noi il suo nome ci dice ci dice l'Evangelista Matteo è Emanuele Gesù ha realizzato la profezia di Isaia che aveva parlato del Dio con noi Gesù è veramente l'incarnazione di Dio che non può stare lontano dall'uomo e questa parola è con noi Dio Gesù è presente in mezzo a noi con la sua parola con il suo Vangelo ed è presente in mezzo a noi nel pane eucaristico quel pane che ci ripresenta tutta la sua storia di vita donata in alimento per la vita dell'uomo la nostra persona deve rendere presente questo volto di Dio che è amore e che Gesù ha reso presente nel mondo auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana grazie a tutti